Ma perché per noi è più importante il territorio, la terra, il territorio, il comune. Per me, a fine carriera, e dipende dal buon Dio quanti anni di salute mi dà, la cosa più bella, al di là di aver fatto il Ministro, di poter fare il Presidente, il Consiglio e quello che volete, sarà fare, prima della fine, il Sindaco della mia città. Perché fare il Sindaco è la cosa più bella, è la cosa che ti permette di risolvere i problemi dei cittadini. È faticoso, è H24, però è bello. C'è tempo, speriamo.